Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale, oggi proseguiamo con la nostra rubrica dei top detergenti tonici, io sono partita in quarta con i tonici perché mi avete chiesto tantissimo di miei tonici preferiti, ma mi sono resa conto che vi sta piacendo davvero tanto questa rubrica, tant'è che devo fare i top di tutte le categorie, quindi diciamo che partiamo dalla base, dalla detersione, visto che sta arrivando un caldo affoso, io direi di cominciare dalla detersione in gel e in mousse, i lati detergenti li lasciamo alla fine. Premetto che non mi ricorderò sicuramente tutti i detergenti top che ho utilizzato, quindi come è successo per i tonici, succederà anche per i detergenti, man mano mi verranno in mente i detergenti, io me li segno e poi magari vi faccio vedere in un altro video. Un'altra doverosa premessa, ovviamente queste sono opinioni miei, di una consumatrice, non sono dermatologo, non sono medico e prendete con le pinze tutto quello che dico, perché ovviamente ogni pelle reagisce a modo suo e siamo tutti diversi per fortuna. Quindi direi di cominciare subito, non sbattate dai miei capelli, ma mi sono fatta le trecce ieri sera perché non avevo assolutamente voglia di asciugarle, e quindi è uscito questo leoncino, che tra l'altro ho i capelli lunghissimi e c'è un sole caldissimo. Allora, come sempre io mi sono segnata perché ovviamente non ho tutti i prodotti qua fisicamente, quindi vi metterò come sempre la fotina. Un'altra cosa che ci tenevo a precisare, chi mi segue da un pochino avrà capito che sono molto molto noiosa, particolare e selettiva con i gel detergenti, non perché la categoria gel detergenti non mi piaccia, anzi, ma perché la mia pelle è una pelle particolarmente sensibile, reattiva e secca, tende al secco. Quindi i gel detergenti diciamo che non è un detergente migliore della vita per la mia tipologia di pelle, però in estate mi rendo conto anche io che ho bisogno di qualcosa di più fresco, quindi tutti i detergenti che vi farò vedere in questo video sono i detergenti che realmente sulla mia pelle hanno fatto la differenza. Quindi sono gel detergenti estremamente delicati, ma super super funzionali, che rispettano anche la pelle più sensibile. Ci saranno anche qualche detergente purificante, ma sono quei detergenti purificanti che secondo me si adattano benissimo anche alla mia tipologia di pelle, perché le ho utilizzate e mi sono piaciuti, eccetera. Dunque cominciamo subito, io partirei da una mousse famosissima, partiamo con le mousse che ne ho di meno. La prima mousse che mi è piaciuta tantissimo è la mousse di Nao Bay, ovviamente la conoscete tutti, la possiamo trovare sia da Tegotà che su Eco Verde, ma vi consiglio di acquistarla sempre da Tegotà perché la costa meno. È una mousse che all'interno ha il tè verde, zenzero, limone, tutti gli estratti molto rinfrescanti, molto rivitalizzanti, quindi vi va a detergere molto bene la pelle, ve la va a purificare leggermente e vi dare quella botta di vita. È una mousse che mi rendo conto potrebbe risultare aggressiva perché è molto molto detergente, ha proprio un effetto anche struccante, pulente dei pori, quindi quando si sciacqua la pelle ne risente. Se avete una pelle molto molto secca magari utilizzatela di estate e non di inverno, quando è più soggetta ai sbalzi termici. È una mousse comunque bella compatta, bella polposa che mi piace tantissimo e quindi io l'ho provata. Su questa mousse ci sono tantissime opinioni, giustamente perché ogni pelle è diversa, ma su di me ha funzionato benissimo. C'è da dire che a volte mi tirava la pelle, a volte no, ma comunque è una mousse biologica facilmente reperibile ed è molto molto buona. Un'altra mousse molto molto buona è la mousse purificante di BioHeart Day by Day. È una mousse che mi piace veramente tantissimo, che ho utilizzato tanti anni fa. È una delle prime mousse che ho utilizzato quando mi sono approcciata al bio e mi era piaciuta tantissimo. È una mousse che potete trovare su Eco Verde, fa parte della linea per le pelli acneiche, ma mi ha svolto la vita perché è veramente una mousse così funzionale, così delicata, non l'ho mai trovata. All'interno contiene la salvia, il tea tree oil, l'acido glicolico e la glicerina, ovviamente l'acqua. È molto molto pannosa, super super detergente. È perfetta per chi ha una pelle acneica al mattino come detergente classico. È perfetta anche per la sera per completare la detersione dello struccaggio, perché è veramente molto pulente, pulisce benissimo i pori, ha un effetto purificante, quasi disinfettante, super super astringente e rinfrescante. Nonostante abbia tutti questi attivi super super purificati, in determinata fase della mia vita, quando l'ho utilizzata, mi sono trovata benissimo, perché è un'ottima detersione e non mi va assolutamente a seccare la pelle e fa veramente la differenza sui pori, sui brufoletti, su qualche magagna che avevo sul viso. È una mousse buonissima. Ovviamente adesso, in questo momento, se la ricomprassi, la utilizzerei solo al bisogno, ma è una mousse veramente molto valida. Come è molto valida, anche la mousse purificante di Madara, del quale venne fatta una capoccia così, perché è una mousse buonissima, ha anche lei un inci molto molto basico, ha pochissimi estratti, ma sapete che Madara è un brand nordico che sfrutta le bacche nordiche, tutte piante particolari che noi qua non troviamo, perché crescono in determinate temperature, in determinate fasi della luce, del buio, eccetera, eccetera. E infatti sono degli estratti, diciamo, potenziati. La mousse, in particolare, è una mousse che all'interno contiene diversi estratti, molto diversi tra di loro, che insieme, sposandoci, danno un effetto a 360 gradi, perché va a detergere, va a purificare, allo stesso tempo va a lenire e a compattare la pelle. Sì, dici, una mousse non può fare queste cose. Quando cominci a utilizzare tanti prodotti diversi, tenerei di conto che anche una mousse può fare la differenza. Questa deterge molto bene, ha anche un buon effetto struccante e soprattutto lascia la pelle pulita, tonica e per nulla che tira, almeno su di me non ha fatto così. E con il tempo l'ho notata anche particolarmente luminosa. Poi, mousse detergente Vive Verde Copp, un'altra mousse che mi è piaciuta tanto, soprattutto quando è uscita. L'ho acquistata subito. È una mousse che ho anche utilizzato da poco, quindi ve l'ho fatta vedere. È molto, molto delicata, deterge molto bene ed è una mousse economica, biologica, senza infami e senza lode. All'interno contiene aloe, malva, quindi va a lenire, dedicata alle pelle delicate, ma non sempre è adatta, perché anche la pelle ha una sua fase di cambiamento. Quindi, a volte mi andava benissimo, perché mi lasciava sempre la pelle pulita, luminosa e non aggredita, a volte mi lasciava la pelle che tira. In linea massima, comunque, è una mousse che va benissimo per tutti i tipi di pelle, perché non dà primo step di idratazione, ma non è neanche purificante. Diciamo che è un classico prodotto adatto per una pelle normale. La mousse detergente alla malva, e qui si chiude la tapparella finalmente, la mousse detergente alla malva di Biofficina Toscana è una di quelle mousse che mi è piaciuta tantissimo. Sì, perché è molto più strutturata rispetto a quella di Vive Verde Coop, è una mousse che detergia molto bene, è una mousse che va a purificare la pelle, è una mousse molto molto particolare, perché vi va a lenire, allo stesso tempo vi dona questa luminosità sul viso, è super soffice, super pannosa, veramente molto molto buona. Ve la straconsiglio, soprattutto se avete una pelle molto delicata, perché quella mousse è veramente una carezza, veramente una coccola. Poi, la mousse detergente di Livli, quella del Diem, ovviamente, che contiene all'interno l'estratto di bacchi di goji, l'estratto di miele di manuka, e non mi ricordo adesso, un acido ialluronico se non sbaglio, è una mousse che mi è piaciuta tantissimo, perché non è la classica mousse pannosa, che fuori esce, bella nuvolosa, ariosa, no, usciva così così, però una volta sul viso si trasformava in una crema, ed era una cosa piacevolissima, perché andava a detergere molto bene, quindi era perfetta anche essa per mattino, ma anche per la sera, aveva questo tocco setoso sul viso, una coccola nel massaggiare, si sciacquava benissimo, sulla mia pelle, quando l'ho utilizzata, non andava assolutamente a tirare la pelle, mi lasciava la pelle luminosa, molto pulita, e soprattutto quasi levigata, è una mousse che comunque costicchia poco, ma il suo lo fa. Un'altra mousse detergente, questa ce l'ho, e vi ho già parlato tantissimo, perché è una mousse veramente ottima, è la mousse di Govi, mousse detergente idrata e purifica, sono 100 ml di prodotto, la potete riferire ovviamente sul sito di Govi, oppure su qualche farmacia. È una mousse, perché particolare, perché mi ha fatto impazzire, perché questa mousse vi strucca l'acqua lunga, se siete stanchi, se non avete voglia di fare tutti i passaggi, vi struccate gli occhi mascara, tutto con questa mousse, senza che vi vada a bruciare gli occhi, vi vada ad arrossare la zona contorno occhi, vi secchi gli occhi, cioè è una mousse spettacolare, deterge molto molto bene, ovviamente non può togliere il 100% del trucco, ma sicuramente il 90% di trucco ve lo toglie, e trovatemi una mousse che sia così funzionale, soprattutto con pochissimo prodotto, stra stra consigliato. Ovviamente questa mousse non è un prodotto biologico, ma sono 98% di ingredienti naturali, Michel Unzinger l'aveva creato, e devo dire che tutti i prodotti Govi, che ho provato finora mi sono piaciuti, e mi sento di consigliare assolutamente questa mousse. Il prezzo è un pochino alto, però se lo prendete con l'idea di andarvi a struccare il viso e gli occhi, quindi un prodotto unico da utilizzare mattino e sera, è fantastica. Al mattino vi toglie tutti i residui, e alla sera vi strucca anche. Che cosa volete di più? Poi, un'altra mousse molto molto particolare, è quella di Yonzac, della linea Ossigeno. È una mousse particolare, perché all'interno non contiene l'acqua normale, non contiene l'acqua demineralizzata, ma contiene l'acqua termale di Yonzac. Come ha fatto notare Elisa, che è anche un suo shop, spesso noi confondiamo l'acqua, la dicitura dell'acqua nell'inci, con l'acqua normale. Invece no, quelli che fanno parte del marchio dell'acqua termale, quindi anche Comoriage, Aven, Olisee, acqua di Repole, Yonzac, l'acqua che viene contenuta nel loro, diciamo, detergente, o nel loro cosmetici, è l'acqua termale. Questa mousse è molto particolare, perché appunto contiene all'interno l'acqua termale di Yonzac, che personalmente su di me ha un effetto più purificante, astringente. Infatti, quando mi chiedete, Kate, quale acqua purificante mi consigli, io vi consiglio sempre quella di Yonzac, per le pelle miste. All'interno contiene anche il brevetto di ossigeno, proprio di Yonzac, quindi il loro brevetto, che promette di andare a ossigenare la pelle. Ora, io non vi so dire com'è l'effetto ossigenante in realtà, ma vi posso garantire che quando ho utilizzato quella mousse, quello che ho visto è la pelle più pulita, la pelle più purificata, la pelle più luminosa, e la pelle più radiosa, più sana. Quindi è una bellissima, bellissima mousse. Non è super ariosa anche quella, ma quando la utilizzate, vi toglie proprio il grigiore, vedete la differenza da così a così subito. Io ho utilizzato anche la maschera e mi è piaciuta molto. Mi sa che il brevetto si chiama Crono O2, una cosa del genere. Comunque quella linea mi era stra stra piaciuta. E poi terminiamo con una mousse che non è bio, che non se ne sente parlare tantissimo, ma io questa l'ho utilizzata agli arbori del mio canale, quindi sto parlando di mousse di Pry. è una mousse che potete trovare, ancora si è riaperta la tapparella, è una mousse che potete trovare su QVC Italia, che è una mousse non detergente, ma una mousse trattamento. Voi la utilizzate dopo la detersione del viso, quindi la applicate sul viso. È il classico trattamento che si presenta in gel e dopo comincia a fare le bollicine. Dopo tre minuti lo esportate e veramente ragazze, se lo esportate con il dischetto, vedete quanto schifo toglie dalla pelle. Nonostante voi l'abbiate pulita, l'abbiate tonificata, comunque c'è sempre qualche cagata sul viso che non va bene. E quindi vedete proprio il grigiore sul dischetto, la cosa è super super impressionante. E infatti l'effetto sulla pelle si vede, si vede che è più luminosa, più pulita, vedete i pori proprio più puliti, più rimpiccioliti. È una mousse straottima. Ovviamente costicchia, perché la vendono insieme alla sua acqua micellare, che invece non mi era piaciuta, ma se volete un trattamento all'ossigeno particolare, che fa le bolle da fare ogni tanto per pulire proprio la pelle, io ve la straconsiglio, perché è un prodotto fantastico. Ora parliamo dei gel detergenti. Allora, in questo momento vi mostro due gel detergenti che sto utilizzando in questo periodo, che vi ho già promosso e che mi piacciono molto. Questo è un gel detergente purificante di Joë, che io vi ho detto che non ricomprerò per la profumazione, ma in realtà è un gel detergente molto molto buono, che secondo me si adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto le pelli delicate, secche, normale, sensibili, perché è un gel detergente molto delicato, ha una texture molto leggera, fa pochissima schiuma, deterge molto bene, sia la mattina che la sera, ha un buon effetto struccante, ma comunque la sua azione pulente è ottima. Sentite proprio la pelle pulita, che non va a tirare. Secondo me è adatto anche per la pelle grassa, quella sensibile, perché spesso pensiamo alle pellacce, pelle grasse, invece questo è adatto proprio alle pelli sensibili, quelli che magari soffrono anche di acne, quindi non possono neanche utilizzare un detergente, che vada a peggiorare la situazione, vada ad irritare ancora di più la pelle, a infiammarla, a togliere il grasso buono, diciamo. Questo è un ottimo compromesso, tra l'altro è un prodotto da farmacia, lo potete trovare in farmacia, ne basta veramente pochissimo, anche se il pack è un po' sbagliato, perché quando lo apri ti casca il prodotto. Io non lo ricomprerò appunto per la profumazione, perché è veramente troppo troppo dolce, ma come detergente funziona, e ve lo metterai nei top tranquillamente, purtroppo la profumazione non mi aggrada. Un altro detergente top, topissimo, anche di questo vi ne ho già parlato, ma è un marchio che ne vale la pena di provare, infatti adesso ho visto che anche su Vanity Space cominciano a parlare di questo marchio, e sono contenta, perché in realtà non ne sento parlare nessuno, e io curiosa come una scimmia, vado sempre a scovare dei brand particolari, sto parlando di Binezur, anche di questo vi ne ho già parlato, di Detergo Gel Bio Delicato, allenitivo, idratante e purificante, prodotto ottimo, 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 all'interno contiene aloe, amamelide, calendula, malva, momilla, è un prodotto veramente delicatissimo, quindi vedete dagli estratti, che sì, ci sono sia gli estratti purificanti, che estratti lenitivi, è infatti un gel detergente pazzesco, che io lo utilizzerei sempre, ma purtroppo la mia pelle ama di più i lati detergenti, fa pochissima schiuma, anzi, quando lo applicate, lo miscelate con un po' di acqua, crea questa cremina particolare, lo massaggiate sul viso, lo sciacquate ragazzi, wow, vi lascia la pelle super super pulita, struccata, detersa, vi lascia la pelle tonica, levigata, compatta, è un detergente veramente fantastico, infatti per il prezzo che ha, 100 ml, è un po' altino, ma ne basta veramente poco, a me, io l'ho utilizzato per circa un mese e mezzo, due, e voi sapete che io non lesino mai con i detergenti, quindi io ve lo straconsiglio, se avete una pelle molto molto delicata, reattiva, che non tollera quasi nulla, perché questo si è purificante, ma allo stesso tempo delicato, perché all'interno contiene gli estratti delicati e lenitivi, e poi cominciamo con la sagra dei detergenti di Dottor Organic, che anche questo finirà tra i top, purtroppo adesso è tagliato, perché lo sto terminando, di questo ve ne ho già parlato, sto parlando del detergente di Dottor Organic, al caffè, energizzante, con estratti di zenzero, menta, pepe nero e ortica, ovviamente questo è un detergente favoloso, come tutti i detergenti di Dottor Organic, perché all'interno, se non al primo, al secondo posto, contengono l'aloe, questo se non sbaglio, contiene l'aloe al primo posto, quindi immaginate voi, di lavarvi proprio con la polpa di aloe, con la polpa di aloe, con un mix di vari estratti, energizzante, purificante, lenitivi, perché poi Dottor Organic, fa la sua lista, di ingredienti enorme, che tra l'altro, sono super super bilanciate, perché io ne ho utilizzati, questo penso che sia il terzo detergente di Dottor Organic, non mi ha mai dato problemi, e poi soprattutto un detergente, ma quasi tutti i detergenti, che lavoravano su tutti i fronti, e non solo su uno, che diceva un detergente idratante, o detergente purificante, no, è un detergente che purifica, idrata, deterge, compatta, rinfresca, rinvigorisce, cioè fanno tutto, tra l'altro, questo sono 150 ml, costa quasi sui 20 euro, ma ragazzi ne basta così, ma veramente pochissimo, fa quella schiuma leggerissima, ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dire, è che i detergenti di Dottor Organic, fanno poca schiuma, ma questo è un segno, di delicatezza sul viso, oltre ad avere l'aloe al primo posto, quindi io ve lo promuovo, perché dietro c'è ricerca, dietro c'è un inci bilanciato, un mix super super perfetto, e soprattutto alla delicatezza, e funziona veramente molto molto bene, e quindi proseguiamo sui detergenti di Dottor Organic, vi promuovo sia il detergente al carbone di Dottor Organic, è un detergente nero, che mi era piaciuto tantissimo, ho utilizzato una confezione e mezza, perché dico così, perché l'anno scorso, l'estate scorsa, ho utilizzato il detergente in full size, e poi qualche mese fa in mini size, è un detergente al carbone anti pollution, quindi leggermente purificante, ossigenante, schiarente, io lo trovo proprio schiarente, anche quello lavora su tutti i fronti, cioè è un detergente super super delicato, che deterge bene, strucca bene, fa pochissima schiuma, l'unica cosa che magari vi dà un po' da fare nel lavandino, perché bisogna sciacquarlo, perché è leggermente vischioso, ne basta poco, pelle pulita, purificata, levigata, luminosa, per nulla, disidratata, non secca, non irrita, non vi crea nessun problema, ottimo. E anche un altro detergente molto particolare, è il detergente T3i, di Dottor Organic, ma della linea Alfa Idrossi Acidi, è un detergente molto particolare, perché viene definito gel detergente, che in realtà è una crema detergente, perché è una pasta bianca, che si va a utilizzare ovviamente alla mattina o alla sera, è stato ovviamente, se ce l'avete ve lo consiglio alla sera, perché all'interno contiene gli acidi della frutta, i pompelmo, gli Alfa Idrossi Acidi, quindi è un pochino fotosensibilizzante, diciamo, potrebbe scatenare le macchie al mattino, utilizzato se poi uscite senza protezione solare, ma è un detergente che va a schiarire proprio il vino, e ve lo va a uniformare, ve lo va a pulire, si intruffola in tutti i pori, perché è proprio una pasta, una crema molto molto densa, una volta che sciacquate, cambiate colore, perché oltre ad essere un detergente purificante, secondo me è anche un detergente, che svolge un'azione esfoliante e enzimatica, ottimo, non secca, la cosa più importante, anche per una pelle misto grassa, perché bisogna togliere, sì ma non troppo, è ottimo anche per la pelle normale, e per la pelle che tende al secco solo, magari ogni tanto, però è un detergente che funziona veramente, io in generale vi consiglio tantissimo i detergenti Dr. Organic, poi due detergenti che vi stra stra consiglio, li amo follemente, sono dei detergenti super super validi, il primo, del quale ho amato anche l'acqua micellare, e l'ho ricomprata, e il gel detergente lenitivo di Jada Cosmetics, è un gel detergente fantastico, sono della nuova linea Renaissance, ho utilizzato infatti due versioni, quello lenitivo è sicuramente adatto per una pelle intollerante, una pelle reattiva, una pelle che tende ad avere prurito dermatite e psoriasi, perché è un detergente che non fa assolutamente schiuma, zero, non ha profumo e all'interno contiene l'aloe, l'acqua di rosa centifoglia, calendula, camomilla, tutti tutti gli ingredienti che vanno a lenire prettamente la pelle, e infatti si chiama detergente lenitivo, lo applicate sul viso, ha una texture come una polpa di aloe, estremamente fresca, lo massaggiate, fa pochissima pochissima schiuma, sciacquate, ha un ottimo effetto detergente, senza andare assolutamente ad aggredire soprattutto la pelle delicata con dermatite e psoriasi, e vi va veramente a disarrossare la pelle, o comunque non ve la va a stressare nel momento della detersione, un detergente straconsigliato da me, ragazzo perché ha una pelle reattiva, una pelle noiosa, quel detergente è stato fantastico, un altro detergente è quello purificante di Giada, in questo caso è un detergente dedicato a una pelle grassa, o una pelle mista, ma molto molto sensibile, con determinate problematiche, oppure per una pelle secca, normale e mista, in estate, se è cercato un detergente purificante, ma assolutamente non aggressivo, questo è fantastico, infatti all'interno contiene salvia, aloe, amamelis, menta peperita, eucalipto, e infatti l'olio di eucalipto, si sente questa sensazione di freschezza, questa sensazione di vigore, ma non è una sensazione ice, che può dare fastidio, io l'ho utilizzato anche quello l'estate scorsa, anche quello ha una texture molto molto delicata, non troppo densa, in gel, sembrava una polpa d'aloe, quando mi detergevo il viso, che poi lo utilizzavo al mattino, era favoloso, pelle rinfrescata, pelle pulita, addirittura vi lasciava la sensazione di pelle idratata, super super rinfrescata, rinvigorita, vi dava proprio una botta di energia al mattino, non andava a seccare la pelle, non l'andava a irritare, ma l'aspetto purificante si vedeva, perché comunque giorno dopo giorno, quando lo utilizzavo, vedevo la differenza, soprattutto sui pori dilatati, quindi un prodotto stra consigliato. Poi, un altro detergente che mi piace tantissimo, è il gel detergente al fico dell'idea, anche quello è un detergente che ho utilizzato agli arbori del mio canale, quando mi sono approcciata al bio, un detergente fantastico, ovviamente se siete fan di detergenti che fanno schiuma, vi piace sentire la schiuma, questo non è un prodotto che fa per voi, questo è un prodotto per pelle delicata, per una pelle da trattare con i guanti, un detergente con una profumazione deliziosa di fico, molto molto liquido, quindi bisogna stare attenti quando lo si preleva, lo si massaggia sul viso, si sciacqua, fa pochissima schiuma, lascia la pelle pulita, questo detergente però non va a struccare, lascia la pelle pulita, morbidissima e idratata, infatti si chiama gel detergente idratante, io l'ho amato e ciclicamente lo ricompro. Un altro detergente che mi piace tantissimo, è il sapone purificante di Apiarium, io ce l'ho nelle scorte, ma mi sono dimenticata di portarvelo, comunque vi lascio la fotina, è un sapone bellissimo, perché non è né un gel né una crema, quindi ha proprio la consistenza di un sapone, come il sapone per le mani, basta pochissimo prodotto, questo è uno di quei detergenti che fa schiuma, quindi non abbondate, se avete già una pelle delicata, ma volete un prodotto purificante, se invece avete una pelle normale, potete abbondare, ma secondo me è uno spreco, perché già con poco prodotto, fa tantissima, tantissima schiuma, questo è bellissimo, perché vi deterge, vi strucca, quindi potete utilizzare, sia al mattino che alla sera, un prodotto, vi va a purificare tantissimo la pelle, ha un effetto estringente bellissimo, vi lascia la pelle fresca, luminosa, iper iper pulita, e compatta, quasi come se avessi applicato, un siero purificante, che vi dà quella sensazione, di una sensazione astringente, ma non secca, non so come spiegarlo, però è un detergente, veramente molto valido, si può utilizzarlo tranquillamente, nella quotidianità, quindi tutti i giorni, mattino e sera, se avete una pelle che regge questo ritmo, se siete già abituati, ai detergenti purificanti, io ve lo straconsiglio, perché anche quello, costa 7 euro, e il quantitativo è piccolo, ma ne basta veramente pochissimo, poi un altro gel detergente, che mi è piaciuto tantissimo, è il gel detergente purificante, di Silveco, è un gel detergente, che io avevo trovato, su Menta Rosmarino, molto molto basico, come Inci, perché all'interno, troviamo l'estratto di timo, Acido Malli, l'acqua di timo, scusate, è un detergente, che sulla carta, sembra veramente, molto purificante, in realtà, io lo trovo, bellissimo, buonissimo, e quasi idratante, quando lo utilizzavo, avevo una delicatezza, stratosferica, quel detergente, detergeva benissimo, la pelle, senza andare comunque, ad aggredirla, ma era quasi, olioso, quasi emolliente, quando lo massaggiavo, quando lo sciacquavo, sentivo che mi lasciava, la pelle sitosa, la pelle morbida, e aveva questo potere, purificante, molto, molto blando, proprio adatto, alla mia tipologia di pelle, quindi è un gel detergente, che si potrebbe, tranquillamente, utilizzare, anche di estate, quando ci si sporca, la pelle più facilmente, col sudore, quando la pelle si lucida, quando laviamo, troppo spesso il viso, per rinfrescarci, comunque, andiamo a togliere, sempre, la barriera protettiva, buona, sulla pelle, quello è un buon detergente, perché, vi va proprio a detergere, in maniera delicata, togliendo solo lo sporco, infatti, non è un gel detergente, struccante, e vi lascia la pelle morbida, morbida, in uno stato di comfort, bellissimo, e, anche se, ha all'interno, questo estratto di timo, ragazze, io vi assicuro, che è il detergente, più delicato del mondo, ma super, super funzionale, poi, passiamo al gel detergente, un po' più purificante, detox, che mi è piaciuto, veramente tanto, e sto parlando del gel detergente, purificante, detox, di intra, con carbone vegetale, e zenzero, quello è un gel detergente, particolarissimo, perché, tutta la linea intra, con quegli ingredienti, è amatissima, soprattutto, per i capelli, perché fa una maschera, stratosferica, a me lo shampoo, mi era piaciuto meno, rispetto alla maschera, che ha quel profumo, mentolato, che vi lascia la pelle, super fresca, la cute, super, super ossigenata, ma infatti, anche il gel detergente, ha quell'effetto, è un gel detergente, molto, molto liquido, che va assolutamente, shakerato, prima di utilizzare, per unire, le fasi, non è che sia bifasico, però il carbone, la polvere di carbone, tende a scendere giù, va shakerato, a questo colore, di, colore antracite, fa tantissima, tantissima schiuma, ne basta veramente poco, anche perché è liquido, quindi se abbondate, ve lo spiaccicate in faccia, vi casca ovunque, fa tantissima schiuma, è un detergente purificante, perfetto, perché purifica, illumina, deterge, ha un potere astringente, notevole, perché quando sciacquate il viso, sentite la pelle, proprio purificata, proprio pulita, in profondità, e quel detergente, necessita il tonico, quindi se avete la pelle, proprio grassissima, lo potete utilizzare, tranquillamente, io per esempio, dopo, non è che sentivo la pelle, secca, ma sentivo la pelle, che diceva, dai ti prego, dammi un po' di tonico, un detergente da supermercato, biologico, super, super consigliato, poi, un altro detergente, che mi era piaciuto molto, è il gel detergente, all'aloe di equilibra, è un gel detergente, micellare, quindi, una via di mezzo, tra acqua micellare, e gel detergente, infatti, la texture, era ambigua, perché era liquido, e quindi, non si riusciva, veramente, a gestirlo, o capire l'utilizzo effettivo, di quel prodotto, ma l'ho trovato, comunque, un detergente, molto delicato, da tutti i giorni, senza andare ad aggredire la pelle, non ha un aspetto purificante, tangente, ma non è neanche idratante, ecco, se però vi da fastidio l'aloe, evitate di prenderlo, perché ha un'altissima concentrazione di aloe, ma come detergente, mi è piaciuto, ne basta poco, lava molto bene, fa pochissima schiuma, lascia la pelle bella pulita, bella rivitalizzata, ve lo strastra consiglio, come vi consiglio, anche il Dermogel di Yonzac, della linea Rehydrating, quello è un gel detergente, che io vi ho utilizzato, con l'idea di un gel detergente, diciamo, idratante, in realtà, è un gel detergente, che non secca la pelle, ma è molto, molto denso, molto simile al gel detergente, acqua di, acqua riche di Sienne, quindi, quando lo applicate sul viso, è bello denso, si aggrappa tantissimo alla pelle, vi crea un mascherone, anche di difficile risciacquo, ma una volta che risciacquate, vi lascia la pelle, veramente, super super pulita, molto più omogenea, vi va anche lavorare, proprio sull'aspetto del colorito, perché secondo me, ha questo effetto, riossigenante, non va a seccare la pelle, ma non ve la va neanche ad idratare, quindi, è un gel detergente, perché particolare? perché all'interno contiene, l'acqua termale di Yonzac, quindi un'acqua termale, un po' più purificante, immaginate una combo, gel detergente di Yonzac, insieme all'acqua purificante, come tonico, l'acqua termale, una combo perfetta, una skin care basica, per una pelle normale, o mista, o grassa, o comunque anche quella che tende a seccarsi, ma di estate si normalizza, perché comunque l'acqua termale, rimineralizza tantissimi minerali all'interno, e quindi, dà beneficio alla pelle, poi un altro detergente fantastico, è un detergente in argilla di Alverde, anche quello, io ce l'ho nelle scorte, ma perché non l'ho portato qua, mannaggia, è una crema in argilla, detergente purificante, una delle mie preferite, perché avendo la pelle secca, quando io ricerco un detergente purificante, spesso, mi fa più male che bene, non so come mai, quelle da supermercato, faccio veramente fatica ad utilizzarle, perché sono basici, non è che io sono noiosa, sono basici per le pelli normali, anche per le pelli secche, contengono troppi tensi attivi, quindi se già avete una pelle sensibile, reattiva, non trovate pace con i detergenti, buttate dentro, ma buttate dentro anche con questo video, perché se avete una pelle che non reagisce bene, andate in farmacia, e prendete un detergente specifico, mi raccomando, io quando ricerco qualcosa di purificante, per esempio in estate, ma non voglio qualcosa di troppo sgrassante, che faccia schiuma, utilizzo questo prodotto, è una crema, ma non è una crema detergente, è proprio una crema in argilla, un po' più liquida, quindi è come se mi vado a lavare il viso con l'argilla all'interno, contiene anche l'aloe vera, quindi è anche molto delicato, quando lavo il viso, ragazzi è fantastico, perché mi va a purificare il viso in una delicatezza totale, cioè proprio sembra di aver utilizzato un latte detergente, vedo che comunque l'aspetto pulente del prodotto c'è, perché comunque strucca molto bene, e si può utilizzarlo anche al mattino tranquillamente, non mi va assolutamente a tirare la pelle, e giorno dopo giorno, vedo la pelle sempre migliorare, per esempio, se ho proprio un periodo che mangio male, in concomitanza, ho il ciclo, ho una pelle che fa schifo, e vi assicuro che anche le pelli più fortunate, hanno dei periodi di merda, quel detergente fa proprio per me, perché ho una pelle secca, che quando è impura, è veramente difficile da gestire, deterge molto bene, lascia la pelle purificata, allo stesso tempo ha un effetto leggermente idratante, lascia la pelle morbida, e lascia la pelle liscia, senza andarla a tirare o seccare, come uno pensa, o cavolo, un detergente all'argilla mi andrà a seccare la pelle, quello è uno di quei prodotti che costa poco, e ha una massima resa, ve lo straconsiglio. L'ultimo detergente che vi consiglio, è il detergente detox di Vrochet, quello con i microgranuli, allora io personalmente, l'ho amato e l'ho odiato, ma adesso facendo comunque mente locale, è un detergente molto molto valido, ovviamente se avete una pelle come la mia, potrebbe a volte risultare un po' più aggressivo, perché io non so come mai, io i granuli, sia nei detergenti gel, che in detergente crema, li sento quasi che graffiano, quindi secondo me va in base alla sensibilità della mia pelle, ecco, quel detergente, quando non mi dava fastidio, mi piaceva un sacco, perché è perfetto per la mattina, per una pelle normale, è super energizzante, ha un profumo fresco, all'interno contiene dei microgranuli, ma non è uno scrub, quindi è un gel detergente sfogliante, voi sfogliate ogni mattina, in maniera delicata, quindi pulite costantemente la pelle, se avete una pelle impura, allo stesso tempo detergente molto bene, lui all'interno ha anche degli estratti, che contrastano l'inquinamento, quindi per me e Caterina, l'effetto anti-pollution è di una pelle luminosa, di una pelle radiosa, e che si sporca difficilmente, quindi io associo il detox, quando vedo che ho meno impuretà rispetto al solito, per esempio nel periodo del ciclo, solitamente mi esce un bignone, se utilizzo un prodotto detox che funziona, non mi esce, ma questa non è una legge, questa è una mia impressione, quindi quello è un prodotto che veramente va a lavorare su, sulla pulizia proprio del viso, ve lo va a sfogliare, continuare a pulire i pori, vi va a detergere molto bene, vi va a illuminare la pelle, ha questo profumo molto molto fresco, che vi rinvigorisce al mattino, e vi lascia la pelle super super levigata, quindi per me è un prodotto comunque top, da consigliarvi, e niente ragazzi, spero di esservi stata utile, fatemi sapere se avete già provato questi detergenti che vi ho nominato, io comunque se mi verrà in mente altro, vi farò un'altra puntata, per ora noi ci salutiamo qui, vi mando un grandissimo bacione, e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!